Musica Cari amici di Trenova, bentrovati a un nuovo appuntamento con la Chiesa nella città, giunto alla sua ultima puntata del giovedì per questa stagione, prima di una, non so se meritata, comunque esistente, pausa estiva. E a proposito di pause estive, ne osserverà una anche il cardinale Tettamanzi per quanto riguarda le visite pastorali ai decanati della diocesi. E l'ultima visita di questo anno pastorale è avvenuta domenica scorsa nel decanato di Gallarate, il più popoloso della zona di Varese, dopo naturalmente quella del capoluogo. Vediamo il servizio. 36 parrocchie distribuite sul territorio di 12 diversi comuni per un totale di oltre 151.000 abitanti, pari al 23% della popolazione che vive nell'intera seconda zona pastorale della diocesi, quella di Varese. Già i numeri dicono la rilevanza del decanato Gallarate e infatti anche l'arcivescovo ne fa riferimento nella celebrazione eucaristica che conclude la sua visita appunto a questo decanato. I cui fedeli, tantissimi, con due vescovi, Stucchi e Ferrari e oltre 50 sacerdoti, si riuniscono nella piazza tra la chiesa e il municipio, dove risuonano le parole dell'arcivescovo che invita ad accogliere e a valorizzare la grande ricchezza della coesione tra parrocchie. È il mio saluto in occasione della visita pastorale, mentre riafferma la bellezza di ogni parrocchia, nello stesso tempo sottolinea con forza la necessità di entrare in rete. Specialmente di fronte alle sfide che si aprono nel futuro. Sono emersi i temi della pastorale di insieme, del lavoro insieme, dell'avvio, rafforzamento dell'esperienza delle comunità pastorali e all'interno di questo un po' il tema della pastorale giovanile. E poi credo un altro tema che è emerso è quello dell'annuncio del Vangelo alle persone nuove che incontriamo, sia perché nuove, perché vengono qui ad abitare, devono inserirsi nella vita delle parrocchie, sia perché straniere, provenienti da altre regioni, da altre nazioni e a volte anche appartenenti ad altre confessioni religiose. Il decano ha parlato di stranieri, sentite com'è dato sensibile questo? Sì, lo sentiamo, di fatti in un intervento che abbiamo fatto davanti all'arcivescovo e anche al vicario di zona, dobbiamo inventare e creare opportunità di incontro con queste famiglie, per poi proporre delle cose o camminare insieme a loro, ma sostanzialmente accoglierle. E come avete sentito a Gallarate si è parlato durante la visita pastorale, anche nel giorno della sua conclusione, di rapporto con gli stranieri. Stranieri che sono già presenti all'interno delle comunità parrocchiali, locali della diocese di Milano, come testimonia una festa che si è tenuta nei giorni scorsi nella parrocchia di Novate. Una festa bella e ricca di significato per tutti quelli che a Novate milanese, alle porte della metropoli, sono cittadini da sempre e per gli altri, i molti che sono arrivati in questi anni. La processione dall'oratorio San Luigi con la festa dei popoli, che già da nove anni si svolge, e il saluto ad un ungo a Proserpio per un quattordicennio parroco della comunità, la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa di San Gervaso e Protaso, Gremita, presieduta proprio dall'abate di Sant'Ambrogio e vescova ausiliare Monsignor Erminio Descalzi a rappresentare il cardinale Tettamanzi, sono stati così occasione per riflettere sull'integrazione, per pregare insieme in tante lingue diverse. Una multietnicità che è un fatto, se solo si pensa che a Novate, 20.000 abitanti, sono oltre 1.200 gli immigrati regolari, 249 tra loro i minori, qui si aggiungono un migliaio di irregolari, per una presenza che raggiunge dunque complessivamente il 10% della popolazione. Per un cristiano è disonore, vergogna quello che è successo di avere respinto i barconi di questi nostri fratelli che sono andati a morire di fame, di solitudine, di stento sulle spiagge della Libia. Questione che interroga il nostro essere cristiani nella testimonianza quotidiana, in ciò che si dice si fa in chiesa, ma forse soprattutto fuori. Nella parrocchia dei Santi Protasio e Gervaso veramente gli immigrati, perché i stranieri non esistono nella chiesa, sono ben accolti, ben voluti e cittadini di tutta la comunità. Cambiamo decisamente argomento, perché nei giorni scorsi il Papa ha dato ufficialmente il via al giorno della solennità del Sacro Cuore di Gesù all'anno dedicato al sacerdozio. E allora tentiamo di riflettere assieme su che cosa significa questo tempo di meditazione particolare sul sacramento dell'ordine. Sentiamo. Un anno animato da profonde speranze, nella consapevolezza che seppur la missione affidata è grande, grandissima, non ci si chiuderà in contesti rassicuranti o ben conosciuti. Il Cardinale Tettamanzi scrive alla Diocesi per l'inizio dell'anno sacerdotale, proclamato solennemente nella festa del Sacro Cuore di Gesù, da Benedetto XVI in San Pietro. E così come il Papa invita a guardare al futuro e a non rassegnarsi, come ha detto, a confessionali vuoti, il Cardinale esprime fiducia, anche in questi tempi non facili, nella Chiesa e nei suoi pastori. Insisterei che l'anno sacerdotale ponga in luce soprattutto il tema della preghiera, del prete, della riscoperta, del sacramento della riconciliazione, della direzione spirituale, perché da lì, da questa fonte, genererà anche una vicinanza ai fedeli che vogliono bene ai preti. Un tema questo trattato nella nostra Chiesa con una felice scelta dei tempi, all'indomani stesso dell'apertura dell'anno sacerdotale, attraverso la sessione congiunta dei consigli pastorale diocesano e presbiterale, per un cammino futuro di corresponsabilità, con una santificazione dei sacerdoti, prosegue il Cardinale nella lettera, che è nel servizio al sacerdozio comune dei fedeli e un presbiterio santificato attraente per i giovani e le vocazioni future. La cosa importante è sapere che il nostro amore per il Signore, la nostra scelta vocazionale passa attraverso la nostra umanità, la cura dell'umanità, della relazionalità, dei rapporti, o stare con la gente, e soprattutto il nostro clero ambrosiano è un clero che lavora con la gente, sta con la gente. Molte iniziative in questi giorni, nell'ambito della Chiesa ambrosiana, si occupano di crisi e di economia più in generale. È il caso di un convegno promosso per venerdì e sabato, che saranno il prossimo 26 e 27 giugno, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Largo Gemelli 1 a Milano. Convegno promosso dalle atli milanesi a 25 anni da un convegno simile, sempre nella stessa sede, che vide la partecipazione del Cardinal Martini e del compianto Giuseppe Lazzati. Il titolo del convegno è una svolta culturale per uscire dalla crisi. E a proposito di economia, si celebrano proprio in questi giorni i sei mesi dall'istituzione del Fondo Famiglia e Lavoro, che è giunto ormai a una dotazione di 4 miliardi e 600 mila euro, e che ha visto già centinaia di contributi distribuiti sul territorio a famiglie in stato di necessità. Vediamo il servizio. Dalla notte di Natale, quando in Duomo il Cardinale Tettamanzi ne annunciò l'istituzione delle ragioni, tanta strada è già stata percorsa. Sono infatti passati sei mesi e un primo bilancio del Fondo di Solidarietà Famiglia-Lavoro può essere tentato. Come si farà a partire dal volume Non c'è futuro senza solidarietà, la crisi economica e l'aiuto della Chiesa dell'Arcivescovo, nell'incontro al Centro Congressi Fondazione Cariplo, dove martedì 30 giugno alle 17.30 si svolgerà un dibattito appunto sul tema del Fondo. A confrontarsi voci e analisi diverse, moderate dal direttore del Sole 24 Ore, Gianni Riotta. Ma una cosa si può dire subito, il bilancio del Fondo è senza dubbio positivo, anzitutto per i denari raccolti, che oggi hanno raggiunto la ragguardevole cifra di quasi 5 milioni di euro, con oltre 1700 contribuzioni di privati e quasi la metà delle parrocchie della diocesi che si sono attivate. Ma anche, e questo è un dato che pare altrettanto rilevante, per la macchina, per così dire organizzativa, che si è messa in campo. I distretti decanali, dove vengono raccolte le richieste, e che attualmente sono oltre i previsti 74, superando il numero dei decanati stessi. E poi i volontari impegnati, la sinergia tra Carita Sanbrosiana e Leacli, per la gestione, con un punto di forza cardine dell'organizzazione, voluto con chiarezza fin dall'inizio, il coinvolgimento attivo del territorio e la costruzione di reti di solidarietà. Proprio perché il Fondo, e il Cardinale ha sempre così invitato a intenderlo, aiuta certamente chi è nella necessità, ma si propone di andare al di là del sostegno economico, non volendo sostituire agenzie già preposte a tali scopi, ma qualificandosi come strumento di sensibilizzazione intorno a tre parole cardine, solidarietà, corresponsabilità, sobrietà. E del Fondo, Famiglia Lavoro, che ha raccolto 4 milioni e 600 mila euro, prima detto miliardi, ovviamente con un lapsus, si parlerà nel corso di un incontro, previsto per il prossimo 30 di giugno, nella prestigiosa sede della Fondazione Cariplo, il centro congressi in via Romagnosi 8 a Milano, un convegno intitolato Non c'è futuro senza solidarietà, che vedrà la partecipazione tra gli altri del Presidente della Fondazione Cariplo Guzzetti e del Vicario Generale della Diocesi di Milano, Monsignor Redaelli. Rimaniamo in tema per parlare di un altro convegno che vedrà impegnati gli operatori della Pastorale del Lavoro della Diocesi di Milano che sabato 27 giugno alle 9.45 in quel di Desio, provincia di Monza e Brianza, in via San Pietro XVI, svolgeranno l'Assemblea Consuntiva del loro lavoro pastorale di cui parliamo proprio di estate per dar conto di alcune interessanti iniziative promosse per i giovani dalla Caritas Ambrosiana. Vediamo il servizio a questo proposito. Solidarietà non va in vacanza, specie per i giovani che saranno impegnati nel periodo estivo come volontari. Esempi concreti sono 100 giovani che stanno per partire tra luglio e agosto per periodi di due o tre settimane in diversi paesi del mondo nei quali siamo già presenti o con giovani in servizio civile o per rapporti pregressi per cantieri della solidarietà, campi di lavoro finalizzati non tanto a risolvere chissà quali problematiche ma finalizzati a offrire ai nostri giovani uno sguardo ampio, un orizzonte ampio di riflessione per interpretare anche la loro vita. Ma poi pensiamo alle decine di giovani che dalla fine del mese di giugno per periodo di una settimana andranno ad animare le tendopoli dell'Aquila ed intorni. Terzo e ultimo esempio, pensiamo alla riproposta della cosiddetta emergenza caldo per gli anziani che ci vede poi collaborare con il Comune di Milano quest'anno nel quartiere gallaratese allo scopo di consegnare agli anziani in possibilità di uscire di casa un pasto caldo e con il pasto caldo portare anche una relazione di amicizia e di simpatia. E mentre molte delle iniziative che hanno caratterizzato l'anno pastorale per le parrocchie le diverse comunità diocesane si sono ormai fermate c'è chi avrà un sabato di lavoro e sabato prossimo, sabato 27 giugno per i responsabili delle sale della comunità ovvero i cinema e i teatri parrocchiali della diocesi sarà un sabato di lavoro presso il Cinema Teatro Nuovo in via San Martino 19 a Magenta. Tra l'altro nel corso della mattinata ci sarà la possibilità di apprezzare anche una nuova proposta biblica del gruppo teatrale Ariel proprio della zona di Magenta dedicata alla figura del patriarca biblico Abramo. Abbiamo sentito in precedenza Don Roberto D'Avanzo parlare dell'attività che alcuni giovani per una settimana faranno animando le tendopoli degli sfollati in Abruzzo secondo lo stile dell'oratorio feriale e allora andiamo proprio in un oratorio della periferia milanese per vedere cosa sta accadendo in questi giorni. Voi siete gli educatori di questo oratorio di Santa Maria Liberatrice. Sascha, tu sei stato da piccolo all'oratorio e ora diventi animatore. C'è una linea di continuità. I bambini che eravamo noi adesso vediamo come uno specchio della nostra infanzia in questi bambini e soprattutto diventando animatori ed educatori anche si capiscono un po' di più i problemi che causavamo noi da piccoli o comunque problemi legati all'educazione o al semplice rapportarsi con i bambini di diversità. Padredino, i numeri di questo oratorio? 150 bambini e ragazzi con 15 animatori. Lavorate tutti i giorni, tutti i pomeriggi? Tutto il giorno, dal mattino, dalle 8.30 del mattino alle 16.30 del pomeriggio. Un oratorio si vede, molto vivo. Molto vivo, molto bello, sì. L'integrazione è anche perché ci sono diverse persone o diversi bambini in questo caso che sono di diverse nazionalità, dei migranti con gli italiani. Anche voi siete un po' un esempio di integrazione bella perché siete messicani. Siamo messicani, sì, siamo integrati per volontà di Dio in questa cultura italiana dove ci hanno accolto molto bene e noi stiamo ricevendo questi valori italiani anche con molto affetto. Tutto va a imparare qua. Beh, una parrocchia dedicata interamente alla responsabilità pastorale di religiosi messicani è un po' un segno dei tempi anche per la nostra città e la periferia di Milano. Parliamo ora di una messa, messa che verrà celebrata dal cardinale Dionigi Tettamanzi nel Duomo di Milano in ricordo di un santo, San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei. E quindi sarà l'Opus Dei ad animare e ad affollare il Duomo nel momento di questa messa prevista per venerdì 26 giugno a partire dalle ore 19. Diamo ora un'occhiata a quanto è accaduto sabato scorso. Un incontro speciale, straordinario, nel senso proprio della non ordinarietà, del Consiglio Pastorale di Ocesano e del Consiglio Presbiterale che si sono riuniti congiuntamente per parlare delle prospettive del prossimo anno pastorale. Vediamo. Come i sacerdoti si rapportano nella corresponsabilità insieme al Ministero Battesimale? Di per sé già il Consiglio Pastorale vede la copresenza di sacerdoti e laici, di fedeli battezzati, quindi lì c'è già un lavoro di corresponsabilità. Oggi è aumentato dal fatto che siamo presenti anche noi come membri del Consiglio Presbiterale sull'iniziativa dell'Arcivescovo che prendendo spunto da quanto il Papa ha detto riguardo all'anno prossimo che lo vuole dedicare come anno praticamente sacerdotale, l'Arcivescovo chiede di riprendere questa tematica e di riscoprire anche il sacerdozio comune dei fedeli, cioè quella dignità che tutti abbiamo nell'essere figli di Dio. Poi noi come sacerdoti, con il sacerdozio ministeriale, siamo né più né meno che a servizio di questo. Siamo stati chiamati a cominciare un cammino non straordinario occasionale di riunione insieme, ma di rilancio di tutti i temi dell'Assemblea Sinodale del Clero in prospettiva di stile di sinodalità. L'anno prossimo il tema sarà l'anno sacerdotale, vissuto però con l'attenzione al sacerdozio comune battesimale e quindi una ricerca e la ridefinizione dell'identità dei presbiteri ma anche dei laici insieme ai presbiteri in una prospettiva comunionale, in un cammino sinodale con i consigli pastorali che lavoreranno tutti su temi comuni. Beh, avete visto in quanti servizi comparso quest'oggi il Vescovo ausiliare Monsignor Emigno Descalzi, segno che in questo scorcio di anno pastorale davvero è molto molto attivo. Si è parlato di sacerdozio comune dei fedeli. Ebbene, il punto di partenza di tutte queste riflessioni sul sacerdozio universale nella Chiesa è di fatto il Concilio Vaticano II e molte sono le occasioni in questi anni per ripensare, ritornare al Concilio Vaticano II. Vediamo il servizio. Il Concilio, accolto e compreso nella Chiesa, è tutto quello, molto, che ancora rimane da attuare e anche da comprendere a pieno. Per questo la serie di convegni per approfondire la questione di battuta inerente proprio alla ricezione del Concilio Vaticano II, promossa dalla Fondazione Paolo VI, è un'iniziativa importante che ha preso il via presso la Villa Cagnola di Gazzada con un primo convegno assai articolato in una tre giorni intensa di studio. In questa prima fase della ricerca bisogna segnalare anzitutto che i soggetti della ricerca sono dei giovani studiosi. Si è voluto chiamare in causa questi giovani studiosi perché le ricerche fossero di prima mano e potessero portare un vero contributo di scavo. Il primo livello della ricerca è stato quello sulle figure divise in tre grandi gruppi, quella della figura dell'uno intorno ai grandi episcopati, alle grandi figure di vescovi che hanno preceduto, accompagnato e seguito il Concilio sia a Milano, a Torino, a Genova e a Venezia e quindi Montini, Colombo, Martini, Ballestrero, Pellegrino, Siri e Urbani e Albino Luciani a Venezia. Poi in un secondo momento ci sono state le figure che riguardano gli alcuni, cioè i ministeri. Qui a tema è stato il ministero del presbiterato, la novità del diaconato, i religiosi, i laici. E poi nella terza sessione anche i molti, tutti, come sono stati definiti, il popolo di Dio. E infine le grandi figure che riguardano i molti, se non i tutti, la parrocchia, i movimenti, le associazioni e anche su questo ci sono stati studi di prima mano che hanno mostrato la trasformazione di questi grandi figure istituzionali che sono stati i soggetti più importanti nella ricezione del Concilio. Il Concilio Vaticano II che si concluse l'8 di dicembre 1965 ma che ha più di 40 anni di distanza, sentite le parole di Monsignor Franco Giulio Brambilla, dimostra ancora tutta la sua attualità e la profezia, per il modo in cui si vive e si guarda alla Chiesa. E ora occupiamoci di quanto la liturgia, attraverso la proposta del nuovo lezionario ambrosiano, ci proporrà per domenica prossima. Prego. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine dite agli invitati Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito noziale. Gli disse Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito noziale? Quello ha muto lì. Allora il re ordinò ai servi Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto estridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Eccoci, poniamo la domanda di fronte all'enigma veramente insolubile. La domanda è questa, ma perché gli uomini preferiscono essere infelici? Cos'è che li convince a diffidare di chi promette loro la via della pace, la via della gioia? Perché mentre si dice loro guardate, andando in quella direzione lì troverete la felicità, la vita vera. E di fronte a questa proposta gli uomini dicono no, preferisco essere infelice su un'altra strada piuttosto che credere a chi mi indica la via della felicità. Preferisco essere solo là dove scelgo di stare io piuttosto che accogliere il dono di una comunione che mi viene offerta. Perché gli uomini preferiscono essere infelici? Forse ce lo può spiegare quel tale che invitato alla festa di nozze si è presentato senza l'abito anuziale. Perché la via che indica la felicità non è un automatismo ma è l'invito a un cambiamento, a una conversione, a una vita che si conforma alla proposta di Dio e quindi diventa luminosa come è luminosa la festa, diventa buona come è buono il Signore che invita, diventa capace di relazioni fraterne come si richiede a una possibilità di vivere in comunione. Ecco, la via della gioia ci è indicata dal Signore che ci vuol bene perché questo è il suo desiderio, renderci felici e tuttavia noi dobbiamo accogliere questo come una possibilità che rinnova il nostro cuore e non soltanto accontenta le nostre pretese. Camminiamo dunque verso la gioia. Bene, ringraziamo Monsignor Mario Delpini e siamo in chiusura. Giusto il tempo per ricordare come lunedì prossimo verrà presentato l'annuale rapporto sulla città a cura della fondazione Ambrosia Neum e di città di Milano parlerà Anna Maria Braccini con i suoi ospiti nella puntata di domenica della Chiesa nella città. Una puntata che permetterà di approfondire cosa significa progettare una città degna di questo nome anche in vista dell'ormai mitico Expo 2015 che ha un po' di difficoltà di cammino se non altro dal punto di vista burocratico e amministrativo. E davvero tutto vi segnalo l'indirizzo di posta elettronica che potete continuare ad usare anche durante l'estate la chiesa chiocciolatelenova.it la puntata del giovedì come vi dicevo si ferma per osservare un periodo di riposo estivo ma vi invito a continuare a seguire la chiesa nella città nella sua puntata domenicale. A tutti voi un grazie e un arrivederci.